SIGLIANI Io ho fatto lavoro con i romani, i calabrizzi, i montesi, i spagnoli, i tedeschi, i negri. I peggiori sono i siciliani e i turcchi come te, perché volete che pure noi ci innamoriamo subito di voi. I po' mi avessi innamorati una faccia e cantano come te, ma io da ammoriarci, siate. Buonasera. E' un vecchio? E' un vecchio? A cui fostisti? Lui me li ha regalati. Come? Un cliente, no? Venis tu? No, ma punti c'è la tua sola. E allora? Mancia, le vici pila che fa su stanza. Minchia che sei buona. Bonuccia, prego. Ma sei quasi di mare tassi. Allora, io che ti vuole già, eh? Cinquanta qua e cento fuori. Lo so, lo so. Pagamento anticipato, grazie. Ti risacchiano, che c'è una sorpresa. Oggi non diventiamo, ma stasera non ci torni più subito. Soccone. Beh, ma che libri stai leggendo? Un vecchio tesoro. Avone! No! Senti, Gioia, ti faccio me la putta a me di contare di lattia o non c'è solo. Se ci vuoi credere, ci credi. E se non c'è una gaga? Vedi? Vai gaga tu, tu so e tua nonna. E sto sangue, è l'immigia che ti mangi a riva. È comunque un film che non ricama sull'argomento, ma va a vedere, è tutta una serie di storie, diciamo, ambientato tra Palermo e Termini Imerese. Grinaldi ha intervistato e ha detto che l'unica cosa, diciamo, un po' vezzosa che c'è è la biancheria intima della prostituta, è particolarmente curata, è un modo per dire che comunque è un film in cui non c'è, viene definito quasi un trattato antropologico, cioè non c'è compiacimento, non c'è un'analisi sociale. In effetti, secondo me, la definizione di trattato antropologico è quella che coglie un po' di più in questa situazione delle persone, situazioni, la ritualità dell'andare dalle prostitute, sono serie di situazioni assolutamente sovrapponibili, a parte in alcuni casi proprio la ripetizione della prima prostituta che si vede, che è avanti e prossimo, avanti e prossimo, che diciamo, trasi ripetute, ti è piaciuto, ti è piaciuto, ti è piaciuto, ti è piaciuto, è piaciuto, è bella. Però poi in realtà, appunto, ha fatto un certo senso di desolazione, poi alcune storie sono anche simpatiche, tipo a Giovanotto che porta la prostituta la notte in albergo, per divertiremo stavolta questi soldi. Noi non potevamo non farci le nostre scuse, ma è per la sua vicina, ci aveva detto che qui abitava una signora anziana, sorda sorda, e che dovevamo suonare e suonare finché non ci sentiva, poi ci siamo tornate dalla sua vicina per dirci il male che aveva fatto. Perché poi ce l'ha detto che lei lavora la notte di tornare verso l'una alle due, noi non potevamo stare senza il suo perdono. E ora che volete? Entrare nella sua casa, anche solo per cinque minuti. Ai guffari. Cinque minuti. Che cosa sono cinque minuti per il Signore nella nostra lunga giornata? Entrate. Stiamo preparando la pasta. Se ne ha voluto alcuni, dite me. No, grazie. Dovete mettermi in testa e chissù che io in chiesa non ci vado mai, poi mai, manca ammazzata, che a besta è il mio Dio e i santi perché se ne fottono di tutte, c'è la gente che muore, che crepa di fame, quelli che ammazzano e fanno le porcherie, e lui se ne fotte di tutto. E non parliamo di chi, da la più pulla delle pulle, la più porca rusa a buttare, a casa di ci fottere di tutte e poi mentre era incinta, disse che era stato lo spirito santo e du credeno di Giuseppe, casa Maruto Augustis, perché ci piacevano i corna. E io non ne voglio sapere né di Dio né dei santi. E casomai mi può piacere un po' Gesù, che stava coi poveri, ci piaceva la maddalena, magari se la ficcava pure, perché faceva male? Ma com'è sto fatto che se fichi da sposata fai benissimo e ti danno la benedizione in chiesa? E se fichi senza sposata sei una pulla a buttare una porca e va a casa? Ora vedi, perché una ficca così o cosa è diversa dagli altri, come se le mogli magari non ficcano più di noi altri. E allora cosa siamo noi? Ce l'abbiamo tutti uguali? Ed è sempre minchia che entra e minchia che esce. E se è minchia di turco, di prete, di marito, di cane, sempre minchia è. Se non vi piacciono questi discorsi ve ne potete pure andare, io parlo sincera. Noi vi preghiamo in ginocchio di non bestemmiare più così il nostro signore. Ma che fate? Alzatevi! Alzatevi, per favore! Ma così si fa? Ma non è che vi mettete in ginocchio davanti a mia? Io Gesù ci voglio bene. Ora la lasciamo mangiare in pace? Ma se si sente sola, se ha bisogno di parlare un pochino con noi, nel nostro giornale troverà l'indirizzo. Questo è il nostro giornale, la torre di guardia. Ma non possiamo regalarglielo. Noi possiamo regalare tante cose se sono nostre, ma non questi giornali che sono di tutti i fedeli. Ma quanto costano? Settecento lire. Così poco? Sì, costano poco. Che vuoi? Che c'è scritto qua? La torre di guardia. E che minchia vuol dire? E che ne so io? Quando lei appunto riceve di Simone di Gerla e va alla vicina di casa e gli chiede che cosa c'è scritto. Cioè, quella ragazza quanto avrà avuto? 20, 25 anni possibile? E gli anni 90 che non si avessi l'angere? Sì, sì. Anche ora? Anche ora? Ti posso dire, da socialismo, a scuola. Sì, io ti posso dire, della mia classe, lo sai, io non ho anche il tirano, ma sono un unico, ti ho detto, io sono il perfetto. Tutta la mia classe della scuola media, parlo, quando andrò alle scuole medie, nessuno era andato alle scuole medie. E lo sa, però che non si è reggierata. Non si è reggierata. Non si è reggierata. Se c'è già la cultura per cui non si dà una valutazione allo studio, un'importanza allo studio, la risposta alla domanda è sì, è plausibile. Io, una ragazza a Palermo, prostituta, che non abbia, anche l'interesse della cultura, a 25 anni non sappia reggere. La domanda, in realtà, forse da Corsi, non ha mai incontrato nessuno che l'ha stimolata, che ha detto devi studiare. Cioè, per arrivare a 25 anni così, probabilmente, no, forse non gli interessa. Quando avremo momenti in cui fa un mestiere del genere, la domanda è perché dovrebbe saper leggere. Una volta, i miei territori, ma anche i miei nonni, quando io riprovo, spesso riprovo, riprovo il mio padre, il fatto che magari non ha avuto una cultura, una formazione, magari come la mia, il mio padre ha solo da me interventare. Scherzato, perché in realtà è una persona abbastanza corta, perché di per sé legge, ma scherzato, lui mi dice sempre, ma guarda, io so leggere i numeri dei miei soldi e faccio lavoro manuale, non basta quello. Mi aspettavo con la risposta, io sono rimasto così. Ok, ma che dubbio. E lui lavora, se devo fare il parco con lei, io no. Mi ritrovo a fare lavori santuari e partai. Cioè, è un mondo veramente... Quando tu vai in Sicilia, in certi quartieri, e ci parli soprattutto di Panermo, perché... non per fare discorsi razzisti o territoriali, ma proprio per una situazione commerciale e turistica, ci sono alcuni luoghi di Panermo che sono veramente rimasti quasi ai redditi della pietra. Però perché sono scelto come in... cioè, in Rappi, quindi... cioè, nel senso sì. però non è l'elemento fondamentale, alla fine, no? Quindi ci stanno... ci sta quella trans, comunque di... più o meno si capisce quello che fa, perché comunque è appena accennato come personaggio, come penso fosse la ragazza di Meri per sempre, la ragazza di Meri per sempre. E poi ci sta questo ragazzo che comunque... cioè, si prostituisce per fare per estrema necessità, e comunque non è che cambia questo... ovviamente, alla fine arriva a uccidere, no? Comunque la persona che ha questi incontri. E poi, tra l'altro, questo personaggio, questo signore che andava a più, che sembra quasi essere il cliente più umano di tutto questo... di tutti questi insieme di clienti, alla fine, quasi più personalizzato, quasi, no? Non cerca di avere un rapporto umano, quasi, quindi questa... la persona non lo prende soltanto come prostituto, alla fine. Che fa il figlio, diciamo. Comunque, non ho tanto... Sì, il basilio già che spera, appunto andiamo in vacanza insieme. Sì, hanno paura del rapporto umano, perché vedi anche la prostituta che odia le persone di colore, la napoletana. Cioè, tendono tutti a me, se ne basta, non te ne vai. Abbiamo fatto senso, però la paura dell'apperto, quando c'è qualcosa di più, poi li metti in gioco, e quindi non è più lavoro, è una cosa d'atto meccanico. Non devono parlare, si devono rivestire e uscire. Se fossi qui con me questa sera, stare felice... Io ho fatto l'amore con Romagna.